Vai! Ok, da più in conto possibile è uscita, ragazzi. Vai! Ora, questa bella. Bravo. Vai, vai! In avanti, in avanti. Vai! Va bene, bravo. Vai! È più veloce il movimento, è più veloce. Vai! Vai! Ancora, arriva. Stop. Passo breve, passo breve. Vai! Vai! Va bene, bravo. No, no. A presto. No, no.